Domenica 20 febbraio al Centro Pastorale di Fano l'Azione Cattolica Diocesana si è riunita per l'abituale Assemblea Lettiva che si ripete ogni tre anni, qual è la durata del mandato? Una giornata che ha visto incontrarsi tutti i presidenti e i responsabili parrocchiali per confrontarsi su quanto è stato fatto nel precedente triennio e gettare le linee guida del nuovo cammino. Vivere la fede, amare la vita è il titolo scelto per l'Assemblea ma al contempo è il filo rosso del cammino dell'Associazione fino al 2014. Curare la propria interiorità dunque e farsi custode di amore per la vita un tema educativo forte che riguarda l'azione cattolica da vicino a partire dalla prossima Assemblea Nazionale di maggio. Tante le tematiche affrontate durante la tavola rotonda del mattino quali l'anniversario dell'Unità d'Italia, la Settimana Sociale dei Cattolici di Reggio Calabria il Congresso Eucaristico Nazionale e non da ultimo la stretta unione con gli orientamenti pastorali del prossimo decennio improntati sulla sfida educativa che da sempre è tanto cara alla C. Presenti il consigliere nazionale Laura Giombetti originaria proprio della nostra diocesi e il vescovo Armando Trasarti. Nel pomeriggio, prima di procedere con le operazioni di voto dei nuovi membri del Consiglio diocesano i presidenti e i vicepresidenti diocesani dei vari settori hanno fatto un bilancio del passato triennio lanciando già importanti incentivi per il cammino dei prossimi anni.